Già dal 2022, in seguito agli stati generali dell'accessibilità, che per la prima volta hanno avuto luogo a Pesaro, ad aprile, sono emerse tante proposte, tante criticità, che abbiamo messo subito in azione. Quindi abbiamo commissionato la redazione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che mi vede, oltre a essere Presidente del Consiglio, a portare avanti questa grande funzione delega di accessibilità e redazione del PEBA da parte del Sindaco. Quindi entro il 2023 avremo il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ma nel frattempo abbiamo attivato tutta una serie di azioni che ci consentono di creare cultura sull'accessibilità. E farlo in maniera pragmatica e concreta è molto difficile. Abbiamo voluto mettere in campo questo progetto sperimentale che si rivolgerà agli operatori, tutti coloro che vengono in contatto con il pubblico, con persone che hanno disabilità motoria, con persone che hanno disabilità sensoriali, con persone affette da autismo. Questo ci permette di creare quella comunicazione che spesso manca, oltre al fatto della mancanza o la presenza di barriere architettoniche, tutto quello che possiamo fare noi individualmente, personalmente, di fronte a queste criticità. E' spesso quello che capita appunto questo. L'esempio di un autobus dove è presente una pedana per eliminare la barriera, dove sono presenti tutte le tecniche e le funzioni in ausilio alle persone con disabilità, spesso si interrompono i momenti in cui un operatore non è in grado di recepire, concepire e interagire con la persona che in quel momento ha bisogno e vuole comunicare qualcosa. E quindi sono partiti questi incontri. Ieri il primo con Adribus, che ha voluto inserire, ha sposato subito questa causa, per questo ringrazio la Presidente e il Direttore di Adribus, che ha inserito questo progetto nella formazione obbligatoria di tutti gli autisti. Autisti che faranno dei focus group insieme a dei testimoni e a delle esperienze di persone con disabilità, quindi i sordi, i cechi, le persone con disabilità motoria. La nostra garante Marusca Palazzi, che ha steso e ha realizzato questo progetto, cercandone di trovarne l'efficacia migliore e con cui abbiamo iniziato questo lavoro. Saranno oltre sei gli incontri solo con gli autisti in quest'anno e abbiamo voluto allargarlo anche a Fano e Urbino, proprio per intercettare tutti gli operatori dell'azienda di trasporti pubblica locale, ma continueremo anche con i commercianti, con gli albergatori, con tutte quelle categorie e persone che possono avere necessità di imparare e capire empaticamente e individualmente come interagire con queste difficoltà e interagire con altre persone.